ciao sono Vincenzo Pellegrini sono venuto da Biceglie provincia di Bari questa è la seconda volta che sono ritornato qua in Albania per completare il mio lavoro definitivo come voi vedete perfetto e ho fatto dieci impianti di cui sei ho fatto l'arcata superiore e appena 4 sotto perché qua pensavo che si divertivano pure a togliere i denti invece no i denti buoni mi hanno loro stesso consigliati di tenerli perché sono buoni e appena 4 impianti sotto perché ripeto i miei denti me li hanno lasciati questo è il risultato Tirana è bellissima perché poi con gli accompagnatori ci hanno portato a fare le gite mi hanno fatto visitare Cruglia Berat non ricordo la Funivia abbiamo trascorso delle c'è sono venuto qua per fare le cure dentali però alla fine mi sono fatto una vacanza grazie a voi tutti ripeto grazie a voi tutti di cuore